Durante l'attività di controllo della Polizia Municipale di Camaiore per contrastare il fenomeno dell'abbandono dei rifiuti, gli agenti di una pattuglia hanno fermato a Capezzano Pianore un 55enne di viareggio ex titolare di un'impresa edile. L'uomo era alla guida di un furgone al cui interno sono stati trovati dei rifiuti speciali derivanti da demolizione edilizia, materiali per i quali è obbligatorio avere uno specifico formulario che ne indichi la provenienza e soprattutto il sito di smaltimento. L'uomo però è stato trovato privo di questa documentazione ma non solo, dai controlli è il risultato che il 55enne non aveva mai conseguito la patente di guida e che il furgone su cui viaggiava era privo di copertura assicurativa. I vigili hanno così posto il mezzo sotto sequestro e all'uomo è stata applicata una sanzione complessiva di circa 9.000 euro.